C'è un'area pubblica, è stato due anni che c'era un'area di cantiere, è stato due anni che c'era un'area di cantiere. C'è un'area pubblica, è stato due anni che c'era un'area pubblica, è stato due anni che c'era un'area di cantiere, che è una tradizione ironica, folcloristica e anche politica, satirica, mentre a un certo punto era diventato quasi banale, quasi una cosa da costume, da contatinelle in fiori, botte di vino, tipo osterie fatte sui carri. E invece noi nel 72, credo, 73, ma Walter sarà più preciso di me, facciamo un carro politico, era un Colosseo, di cui forse abbiamo ancora le foto, con un aereo precipitato al centro, era un C-130 della Lockheed, e attorno a quei resti dell'aereo c'erano vari personaggi politici con delle rappresentazioni. Partecipammo al carnevale ufficiale, non prima domenica di quaresima, e fummo radiati dall'elenco dei carri vincitori, fummo proprio annullati, anche noi per rivendicare qualcosa la domenica successiva, cioè facciamo una festa, o un giorno successivo, facciamo una festa per conto nostro. Da allora ragionammo sulla possibilità di riprendere la traduzione di Cannone Liberato. Io adesso darei la parola al mio amico Walter Consumati, presidente dell'Arci, che è stato all'epoca presidente dell'Arci, che potrà raccontarvi meglio nei dettagli e altre cose. Io, è inutile che mi presento, l'ha detto già diverse volte Sandro, ho fatto il presidente dell'Arci e sono con lui e altri compagni, noi ancora ci chiamiamo compagni, i fondatori, i rifondatori di questa tradizione. Qual è la nascita del carnevalone di quaresima? La cosa importante è che il carnevalone di quaresima è stato svolto per la prima volta nel 1861. Non che prima non si facesse, noi abbiamo dei documenti precedenti per cui a Poggio Merteto il carnevale si faceva anche nel 600, nel 500, però nel 1861 con l'annessione di Poggio Merteto al Regno d'Italia fu concesso questo privilegio. Se dovessi fare una piccola croniscrittoria direi, era in costruzione la ferrovia Roma-Orte, il governatore dell'Umbria, perché noi all'epoca eravamo provincia di Perugia, quindi offrì ai cittadini di Poggio Merteto come riconoscimento del fatto che avevano lottato per essere annesti al Regno d'Italia la possibilità di spostare il tracciato della ferrovia che adesso passa a 8 km, quindi la stazione di Poggio Merteto sta a 8 km da Poggio Merteto, l'avrebbe spostata più verso Poggio Merteto con un'indubbia ricaduta sull'economia, sui trasporti, eccetera. Sembra che i cittadini di Poggio Merteto abbiano rifiutato questa offerta chiedendo in cambio di poter festeggiare il Carnevale la prima domenica di quaresima tanto per, diciamo, prendersela con il potere temporale della Chiesa che fino a poco tempo prima li aveva oppressi. E uno dei primi carri che fecero questi cittadini di Poggio Merteto era una botte da cui usciva fuori il Papa e un operaio con una mazza lo rimandava giù. Poi l'abbiamo pure rifatto questa cosa. Tutto questo si è trascinato nel corso di tanti anni, fino al 1930. Dicevo che la tradizione del Carnevale, fatta la prima domenica di quaresima a Poggio Merteto, si è interrotta nel 1930, quando dopo i patti lateranensi e con il regime fascista in vigore è stata ristabilita la data canonica del Carnevalone al giorno del Carnevale. Noi abbiamo copia di alcuni manifesti del 1936, 1937, 1938, che come dicitura importante sotto dicevano è severamente vietata la maschera al viso, quindi facevano un Carnevale e dovevano essere tutti facilmente identificabili. Quindi da quel momento il Carnevale è ridiventato un Carnevale normale, senza nessuna offesa per le pubbliche autorità o per la Chiesa in particolare. C'è da dire per comprovare quello che sto dicendo, perché potrebbe essere pure che uno pensa che ci siamo inventati qualcosa, colui che ha scritto le memorie storiche di Poggio Merteto, Ercole Nardi, che è uno storico molto importante per il nostro Paese, in una parte quando parla di tradizioni locali dice che le testuali parole sono tra le feste più o meno sacre vale la pena di ricordarne una profana. L'alba della domenica prima di Quaresima si riempie di maschere, di fuochi, di tutte quelle attività che sono proprio del Carnevale. E noi abbiamo anche i documenti degli anni successivi, 64-65, 1864-65, con i quali la Questura autorizzava il protrarsi del Carnevale alla prima domenica di Quaresima. Quindi tutto questo ci ha portato a far sì che si dovesse riscoprire una tradizione, perché nel 1977 il Carnevale si svolgeva in maniera diversa, il Carnevale normale diverso. E di questo sarà meglio che ne parli Pino perché è più indicato per essere l'ala moderata dell'Arci di Poggio Merteto. Dunque, riportiamoci al 76-5, 76-77. Il Carnevale Poggio Merteto si svolgeva come era da tradizione. Non venivano messe nemmeno le barriere, eccetera. Proprio le corde. Mi ricordo ancora che c'erano tutte queste corde, per cui la gente stava dietro alle corde. E sfilavano questi carri. Diventava sempre più faticoso anche per chi faceva i carri in quel periodo. C'era pochissima gente. E non c'era più niente di satira, nel senso che i buffi o qualche maschera isolata. Alle 4 e mezza finiva il Carnevale di Poggio Merteto, in pratica. A noi questa cosa qua era, c'avevamo tutti 20 anni, 23, 24 anni, 18. Cioè sembrava di perdere qualche cosa nel Carnevale. Il Carnevale è un momento fantastico, un momento in cui l'angelo diventa diavolo, il diavolo diventa angelo, eccetera. E quindi qual è la cosa che ci ha spinto? A dire, ma riscopriamo un po' un Carnevale. Ritorniamo a far satira forte sul Carnevale. A fare in modo che questo Carnevale diventi veramente un momento in cui ci si diverta, proprio nel vero senso della parola. Nel 77, prima, io non mi ricordo, alcuni anni prima si faceva anche il Veglione Notturno, il Veglione del Martedì Grasso. era, a nostro avviso, era quasi tutto morto, appoggio Merteto. Ma non è stata, diciamo, l'esperienza di Carnevale liberato? Lo fascismo aveva ripreso dal fascismo? No, nel 77 abbiamo deciso di fare il Carnevalone e l'abbiamo chiamato Liberato, perché veniva liberato non solo dai vincoli ecclesiastici, eccetera, ma per noi era una liberazione anche nello spirito con cui si doveva fare un Carnevale. Tant'è che io sono convinto ancora oggi che il fatto di fare il Carnevale liberato ha ridato un grosso impulso, non volendo, anche all'altro del Carnevale, per cui si sono sentiti stimolati a fare sempre ancora meglio anche loro. E questa è stata la molla forte, tant'è che non era classificato tanto sull'anticlericalismo all'inizio. Certo, abbiamo fatto Fran Mariano, non è che ci andavamo leggeri su tutto. E poi era la festa dell'autoliberazione, abbiamo ricordato una piazza Mario Dottori, l'esecuzione che fecero le due persone, De Casperia, Mastro Titta, durante il periodo dello Stato Vaticano. Voglio dire, però, di per sé, la cosa veramente trainante era la satira politica. Per noi il bamboccio era sbeffeggiare il politico di turno, sbeffeggiare la persona che si era contraddistinta durante l'anno. Portare, abbiamo fatto le retrospettive di Vauro, di Stefano Disegni, di Mannelli, perché portavamo gente che disegnava, faceva le vignette e noi esponavamo le vignette che erano uscite le migliori durante l'arco dell'anno. Quindi c'era questa mostra sulla piazza di vignette e ci sforzavamo anche di fare le vignette sui politici locali. Ecco, questo era un po' il carnevale, è stato lo spirito che ha sempre contraddistinto. Poi, come da marketing il logo andava, l'idea piaceva, è stata una delle prime feste, secondo me, poi hanno tutte copiato, che si è svolta senza nessun vincolo, con tanta musica in piazza e con la musica diffusa in tutti gli angoli del paese. Perché questo era il 77 quando noi abbiamo fatto le prime feste dove la musica veniva sparata in ogni angolo del paese. Capito? Cioè, era questo. Poi piano piano e poi arriva, almeno qui, Roccantica, cioè, Sant'Arcangelo che faceva il festival dei... Se vai a vedere viene dopo il 77. Voglio dire, quindi, noi abbiamo anche il pregio di averci avuto quest'idea innovativa, secondo noi, di fare una festa diffusa, una festa adatta a tutti, una festa in cui la gente partecivasse direttamente e fosse protagonista di questo carnevale. Ecco, questo è un po'. No, l'interruzione è mai. Abbiamo avuto un paio d'anni che magari pioveva, l'abbiamo fatta dentro, abbiamo fatto delle cose diverse, l'interruzione ci abbiamo avuto dal 2020, perché il 2020 c'è stata la pandemia, quindi non l'abbiamo fatto, il 2021 la pandemia abbiamo fatto, il 2022 c'era stato un problema sempre di pandemia o delle restrizioni che non ci continuiamo a fare e l'anno scorso c'è stato un grosso problema perché ormai la legge, però praticamente, perché è di legge, le leggi che se tu vuoi organizzare una festa, purtroppo le incombenze che ci sono restano tutte a carico degli organizzatori e non più degli enti perché ci crolla tutto addosso. Adesso ci manca solo e ci fanno fare un corpo di polizia e poi dopo abbiamo fatto tutto perché pensiamo noi ai Croce Rosse, pensiamo noi ai Vigili del Fuoco, pensiamo noi e quindi... E quel volo, cioè questo è un tema che è bravo, quindi Cagnolone Liberato, una festa, diciamo, di riferimento non solo per Poggio Neffeto ma anche, diciamo, per Roma e il centro Italia ormai. Ma certo, questo anzi... Come è diventato, diciamo, di riferimento? Ma, ripeto, secondo me e ce ne so poche di feste dove tu vai, trovi musica in piazza, se possa ballare, ognuno, tra l'altro con una grande libertà, cioè noi non abbiamo mai messo vincoli a nessuno, nessuno si deve registrare se si va a mascherare, nessuno deve sfilare, eccetera. Poi abbiamo, è un percorso che abbiamo fatto in 40 anni, sbagliando qualche cosa anche a noi. Io mi ricordo il carnevalone più bello, secondo me, è stato quando abbiamo piantato il circo in piazza. Abbiamo preso un tendone del circo e l'abbiamo messo all'entrata della piazza, per cui chi entrava in piazza praticamente è come se entrasse all'interno di un circo. Questo per me è lo spirito, questo è... Cioè, tu entri in piazza perché entri e sei tu entri nell'arena del circo, sei tu che farei la festa. Poi, è logico che all'interno di una manifestazione che raccoglie 10-15 mila persone che vengono da fuori, ci siano problemi anche di qualcuno subriaca, qualcuno... Ma io sfido tutti a girare il mondo, ad andare a Rio e dirgli no, non facciamo più il carnevale di Rio perché ogni anno a Rio mogliono una quindicina di persone assassinate. Capito? Oppure facciamo Ibrea che si tirano l'arancia. Oppure a Monaco ci vanno circa 300, partono dall'Italia circa un contingente di 300 carabinieri oppure polizia, eccetera, proprio per fare in modo che chiunque va là ci sia poi chi parla italiano perché comunque si ubriacano per 15 giorni. Quando c'è tanta gente ci sono questi problemi. Il problema è come risolvere risolvere i problemi che nascono tutti i giorni e che secondo me dovrebbero anche essere a carico delle amministrazioni che gestiscono il territorio. Non tanto di me che organizzo una festa, io organizzo una festa, io faccio tutto il possibile, poi il resto dovrebbe essere organizzato dagli enti preposti. Allora, la festa per noi non è mai stato un problema, il problema organizzativo lo abbiamo sempre superato in qualche modo, anche perché siamo partiti con, come si dice qui da noi, una scarpa e una ciabatta. Adesso che bene o male abbiamo anche le possibilità nostre, finanziarie e personali per poter far fronte eventuali spese, non abbiamo problemi perché i problemi prima non erano di natura strettamente legale, adesso sono legali, permessi, eccetera. I problemi ce li abbiamo avuti dall'esterno quando l'intolleranza, io potrei dire, mentre da parte della Chiesa non abbiamo mai avuto grosse pressioni perché diciamo in qualche modo ce l'hanno tollerato, io ricordo che mi prese sotto braccio Torricci che è un prete storico di Poggio Merteto che aveva fondato le scuole, eccetera e per sapendo che facevamo il carnevale la domenica dopo mi ha detto oh, non ti preoccupare che tanta domenica non è mai quaresima, mi rispose così per sbinuire il significato della festa. Però quando abbiamo superato le 10.000 persone perché poi con attività con i mamutones grosse manifestazioni tenute nella piazza di Poggio Merteto la parte chiamiamola bigotta da un punto di vista politico ha cercato di ostacolarci in qualche modo non è un caso che siamo stati attenzionati dalla attuale Presidente Presidenta del Consiglio dei Ministri Meloni nel 2008 quando era Presidente di Azione Giovani e Vice Presidente della Camera presentò una interrogazione alla Camera sul Carnevalone che era un ritrovo di trocati di briaconi di sovversivi eccetera quindi presentò questa interrogazione che non sappiamo veramente cosa abbiamo fatto il circolo arci di cui all'epoca credo fossi io il Presidente rispose indirizzando una lettera a Meloni che non ha mai risposto e nella lettera raccontata questa frase molto semplice se lei fa il parlamentare e si occupa di queste cose probabilmente non c'è un cazzo da fare di meglio gli rispondiamo in questo modo ma Meloni non ci ha mai risposto è evidente che i giovani di azione locale che sono così ligi al rispetto delle leggi delle norme che tappezzarono in maniera abusiva tutto il territorio di Poggio e Milteto con manifesti di azioni giovani arrivano i nuovi barbari misero tanti di questi manifesti erano capeggiati dall'attuale sindaco di Casperia Cosso Marco Cosso il quale probabilmente facendo parte di azioni giovani aveva sollecitato l'allora Presidente nazionale Meloni a fare questa interrogazione che si è dissolta nel nulla perché poi fino al momento in cui abbiamo dovuto forzatamente interrompere i carnevali noi siamo andati avanti comunque con quello che Pino ricordava cioè noi abbiamo messo alla berlina tutti non ci siamo limitati a coloro che possono essere indicati come i nostri avversari politici abbiamo fatto D'Alema vestito da Chirichetto quindi non è che chi era in quel momento al potere doveva essere una volta abbiamo fatto secondo me il gruppo più bello è stato quello di Giordano Bruno e abbiamo fatto e quello che merita ricordo era quando abbiamo fatto un grosso diciamo vescovo il vescovo di Poggio Pertito era c'era no c'era Marcinkus non mi ricordo chi era il prelato che aveva un grosso pastore tedesco a Quinsaglio che era il Papa appena eletto era benedetto era stato eletto come pastore tedesco e noi lo raffigurammo come grosso canelupo che era tenuto a Quinsaglio da Ruini dal Cardinal Ruini che aveva sulla mano appollaiato sulla mano un gallo che fumava che era il vescovo fumagalli che era il vescovo di Poggio Merteto quindi ci siamo divertiti noi ci divertiamo a fare questa cosa e cerchiamo con questo divertimento diciamo dare una smossa alle coscienze dei cittadini una cosa importante che abbiamo fatto nel 1995 tutti sanno che a Civitavecchia c'era una Madonna che piangeva che poi è risultata essere una bufala e che ha preso in giro centinaia migliaia dei fedeli e noi quell'anno prendemmo una statuetta di una statua da giardino era una donna normale l'abbiamo messa dentro una sorta di nicchia collocata nella piazza di Poggio Merteto chiunque metteva una moneta da 500 lire riceveva dagli occhi di questa statua un bicchiere di vino era il miracolo divino e quindi abbiamo fatto piangere quella statua come faceva l'altra cosa finta a Civitavecchia erano due finzioni e questo fece dispettire quella volta il parroco di Poggio Merteto che scrisse buon per loro che non stiamo in Pakistan altrimenti non se la sarebbero passata bene poi l'abbiamo pure portata in trasferta a Fano io e Sandro Mancini siamo andati a Fano con la macchina e tutta sta statua e tutta l'attrezzatura sopra quindi siamo andati anche in trasferta L'attenzione politica non c'è no 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 noi da anni ormai dobbiamo per esempio elevare un plauso ai militari non sono militari ai poliziotti della Dicos che fanno il loro servizio tutti gli anni sono anni abbiamo diciamo stretto un rapporto di comunicazione molto vicino che ci danno consigli e stanno lì attenzionano le cose senza creare problemi ce ne abbiamo avuti una ventina d'anni fa quando i carabinieri alle nove alle otto e mezza di sera alle sette e mezza di sera con la macchina di servizio si sono messi a transitare in mezzo allo spazio della festa è evidente che tutti quelli che stavano lì chi è salito sul cofano ci sono stati dei problemi ma erano loro che avevano fatto la provocazione infatti dall'anno successivo nessuna persona indivisa è più transitata a meno che non fosse mascherata è più transitata per la piazza di Poggio e non ci sono stati più problemi l'eccessiva attenzione però l'eccessiva diciamo attenzione a parte dei reparti delle accede che insomma che perquisiscono questo non è sì può essere eccessivo ma non ci disturba a noi e penso che chi viene non ci avrà problemi il problema è diverso è della stampa il problema è diverso perché il giorno dopo la stampa manda comunicati dei grammi di ascici di cocaina eccetera che sono stati requisiti che sembra chissà fanno così scalpore non dimenticando che comunque a Poggio Mirteto e bisogna dirlo questo qua c'è un problema c'è un problema ma non è il problema di Carnevale Liberato se aprono gli occhi i cittadini di Poggio Mirteto sanno che a Poggio Mirteto c'è un problema tutti i giorni di droga